Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, originaria del quartiere romano di Torre Maura, dopo aver studiato recitazione, nei primi anni 90 inizia la sua carriera come attrice di fotoromanzi e come modella. È testimonial dell'organizzazione Parent Project. Esordisce in teatro con lo spettacolo, con atti unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano. Poi nel 1985 recita in se ne cadette o teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne la voglia. Matta di Attilio Corsini. La scomparsa improvvisa di Alessandro Locascio ha causato una grande tristezza tra molte personalità del mondo dello spettacolo che lo conoscevano e avevano lavorato con lui, tra cui Sandra Milo, Raffaella Carrà e Gina Lollo Brigida. Anche Milena Miconi è stata colpita dalla notizia e si è commossa. La showgirl, molto emotiva, ha deciso di abbandonare temporaneamente il reality show. Locascio ha lavorato con celebrità di fama mondiale. Come Sandra Milo. Che ha annunciato la sua scomparsa attraverso i social network. Scrivendo che oggi una parte della sua vita e del suo cuore sono stati lasciati vuoti.